Carissimi, buongiorno e benvenuti. Oggi vorrei parlarvi di un tema super caldo in alimentazione e salute umana che sono in retroscena delle diete, cioè quello che nessuno dice mai quando si parla di alimentazione, nutrizione, diete e cibi. Perché questo tema è importante? Per due ragioni. La prima è che ci dà degli strumenti teorici ma anche pratici per poterci difendere da tutte le fake news, dalle bufale e dai venditori di aria fritta. Quindi da un lato ci mette in sicurezza, dall'altro invece ci dà degli strumenti pratici per scegliere in modo consapevole come alimentarci e soprattutto per capire come filtrare la ricerca scientifica con una luce, una chiave di lettura che sia utile per la nostra vita di tutti i giorni. Allora senza indugiare comincerei dalla fine e vi anticipo subito quello che alla fine di questa chiacchierata arriveremo a definire e cioè lo vedete qui in un cibo miracoloso. Saremo in grado di identificare un cibo miracoloso che come vedete qui vi ho rilasciato anche una referenza scientifica di letteratura, riduce del 47% i tumori, del 67% gli infarti e permette di perdere peso di circa un chilo ogni 30 giorni grazie ad un effetto brucia grassi. Ora so che molti di voi saranno curiosi di sapere a quale cibo mi sto riferendo, tenete la curiosità ancora per un pizzico di tempo, arriveremo a definirlo. Ma prima capiamo perché non ce lo dicono? Beh perché ci sono degli interessi dietro? Alla fine arriveremo a definire anche questo aspetto. Ma cominciamo quindi, facciamo un passo indietro e cominciamo dall'inizio, cioè ci dicono sempre che mangiare le verdure fa benissimo. So che sembra scollegato ma aspettate un attimo. Dunque mangiare fa verdure, mangiare verdure fa benissimo. Ok ma perché? Cioè ormai noi siamo consapevoli di questo fatto ma ci siamo mai domandati come mai ci faccia bene? Per quale ragione ci fa bene? Chi è che l'ha detto? Chi è che l'ha dimostrato? Ovviamente non sto dicendo che non sia così, sia chiaro, però quello che vorrei fare in questo momento è allenarci a uno spirito critico, a una mentalità critica che ci faccia mettere in discussione quello che ci viene detto giorno per giorno. E allora rispettando un po' questo esempio del fatto che le verdure facciano bene ma perché, facciamo un esempio pratico. Diciamo che vogliamo dimostrare che il cavolo, così una verdura a caso, ci faccia bene. Allora la prima cosa che dobbiamo fare per poterlo dimostrare è creare un metodo scientifico, ok, per obiettivare, quindi rendere oggettiva la constatazione che il cavolo ci faccia bene. E allora dobbiamo definire due domande a questo punto. Come? Quindi come facciamo a dimostrarlo in modo pratico? Cioè io ho decine di cavoli sulla scrivania. Come faccio a dire che fanno bene alle persone che ho davanti? Questo è l'unico modo per dimostrare che un certo alimento faccia bene. Ma questo apre anche un'altra domanda. Che cosa vuol dire bene? Perché io posso dire mi fa bene all'umore o mi fa bene al cuore, quindi mi previene gli infarti, oppure mi previene l'ipertensione, oppure mi previene i tumori? Dobbiamo definire anche cosa vuol dire bene. Quindi con queste domande in mano cominciamo a entrare, aprire un po' il cofano di quello che è il mondo scientifico e cominciamo a familiarizzare con quello che è lo strumento più potente di tutti per dimostrare che un certo alimento, ma questo vale anche in realtà per i farmaci faccia bene all'essere umano. E si chiama studio clinico randomizzato. Un nome complicato, ma cosa vuol dire? Vuol dire che noi prendiamo due gruppi di persone, idealmente più sono meglio è, e a un gruppo diamo il nostro alimento che vogliamo studiare, o meglio di cui vogliamo dimostrare la salubrità, quindi che faccia bene, e all'altro gruppo invece diamo il placebo. Anche se in questo caso è un po' complicato dare un placebo perché simulare il fatto di mangiare un cavolo non è esattamente semplice, quindi già qui si apre una prima difficoltà in quelli che sono gli studi clinici in ambito nutrizionale. Ma uno studio clinico, randomizzato non randomizzato, randomizzato vuol dire che viene deciso a caso chi assume il cavolo e chi invece non assume nulla o assume il placebo se fattibile. È però molto complicato realizzare uno studio di questo tipo, perché? Perché innanzitutto dobbiamo definire quanto cavolo dare, cioè io devo dare un cavolo al giorno da mangiare, un cavolo a settimana, un cavolo al mese, un cavolo all'anno, insomma è molto complicato e come faccio a decidere quanto darne? Perché in fin dei conti l'effetto benefico probabilmente dipende anche dalla dose, quindi come faccio a decidere? Beh in questo caso dovrò appoggiarmi a quelle che sono le evidenze precedentemente costruite, quindi gli studi in laboratorio, gli studi osservazionali, tra poco capiremo cosa sono. E però capite che già è complicato definire questo. L'altro aspetto è ok la dose ma per quanto tempo devo darla? Cioè posso fare uno studio di una settimana, di un mese, di un anno? Ma diventa complicato fare uno studio di 10-20 anni, però il punto è che molto spesso l'effetto di un alimento in questo caso viene determinato anche dal tempo di esposizione oltre che dalla quantità, quindi probabilmente fare uno studio che dura una settimana, un mese, non lo so quanto mi possa dimostrare qualcosa. E poi c'è il problema più grande degli studi clinici randomizzati, cioè io posso dare un cibo a un gruppo di persone, però ammettiamo che io debba dare un cavolo tutte le settimane, sì ma qualcuno avrà anche nausea dopo un anno ad aver mangiato continuamente cavolo e smetterà di mangiarlo e magari non ce lo viene a dire. Quindi potrebbe falsare lo studio, però immaginiamo anche l'altro gruppo di persone a cui diciamo benissimo la ringrazio per essere entrata in questo studio clinico, noi pensiamo che il cavolo faccia bene perché riduca il rischio di infarti, di tumori, però lei non lo mangerà. È un po' complicato da dire e probabilmente qualcuno deciderà spontaneamente senza dircelo di mangiare lo stesso cavolo e anche questo andrà a inficiare potenzialmente il risultato dello studio. Questo tipo di studi, gli studi interventistici, quindi in cui viene somministrato, viene dato qualcosa, sono gli studi migliori in assoluto per dimostrare che un certo alimento funziona, è efficace. Però capite che hanno molti, molti limiti. E poi c'è il limite più grande ovviamente che è il limite dell'etica e cioè se noi sappiamo o presumiamo che un certo alimento faccia bene, come facciamo a non darlo volontariamente ad alcune persone? Non è eticamente corretto. Questa è la ragione, queste sono le ragioni per cui gli studi clinici randomizzati vengono fatti con grandi difficoltà in ambito nutrizionale. Allora sembra che siamo arrivati un po' a un cul de sacca, a uno scacco matto, cioè non possiamo fare gli studi migliori e allora come facciamo a dire che il cavolo fa bene o che le verdure facciano bene? Come facciamo a dirlo? Beh, dobbiamo appoggiarci a un'altra strategia, una strategia diversa. Ed ecco la soluzione. La soluzione è triplice, cioè si basa su degli studi di diversa natura, che non sono più interventistici, quindi non diamo più noi qualcosa, ma sono degli studi osservazionali, cioè osserviamo quello che succede a delle persone. Abbiamo tre modi per condurre questo tipo di studi e sono gli studi ecologici, i studi caso controllo e gli studi di corte. Analizziamoli brevemente, poi alla fine capiremo perché ognuno di questi è utile, ma anche scricchiola a volte. Allora, gli studi ecologici cosa sono? Il nome è un po' particolare, ma è molto semplice da capire. In realtà sono degli studi condotti su una popolazione, generalmente su delle popolazioni molto ampie, quindi parliamo proprio magari di tutta la popolazione italiana, tutta la popolazione americana, tedesca, eccetera, in cui si va a vedere questa popolazione quanto magari di un certo alimento, quanto alimento assume. E questo viene ripetuto per ogni stato e quindi si può dire, ok, se in quello stato si mangia tanto cavolo, ipotizziamo, e c'è una bassa incidenza, quindi c'è un basso numero di infarti e questo viene, questa osservazione viene replicata in diversi stati, allora forse il cavolo può fare bene su quella certa patologia. Qui vi ho riportato un esempio eclatante uscito su un giornale scientifico molto prestigioso che è il New England Journal of Medicine e in questo studio è stato correlato il consumo di cioccolata con il numero di premi Nobel. Ora qualcuno potrebbe dire, ma cosa c'entra la cioccolata con i premi Nobel? Beh, diciamo, è stata fatta un'ipotesi per cui la cioccolata, e quindi il cacao fondamentalmente, conterrebbe dei polifenoli che potrebbero avere un'azione a livello neurologico e cognitivo, quindi chi mangia più cioccolata assume una maggior quantità di questi polifenoli e quindi potrebbe avere maggiori capacità cognitive. E in effetti, se noi correliamo il consumo pro capite, quindi che viene fatto a livello di un certo stato di cioccolata con il numero di premi Nobel ottenuti da quello stato, vediamo che c'è una correlazione. E quindi, per esempio, in Cina si mangia poco cioccolato e ci sono stati pochi premi Nobel, viceversa in Svizzera moltissimo cioccolato, moltissimi premi Nobel. Ah, attenzione! Allora diremmo adesso comincio a mangiare cioccolato dalla mattina alla sera, che è pure buono, peraltro. Beh, in realtà questa associazione è falsa, questa associazione è falsa, e dobbiamo stare molto attenti quando qualcuno sostiene le sue tesi attraverso uno studio di tipo ecologico. Perché questo studio non è affidabile? Perché è uno studio troppo grossolano, troppo poco preciso. Infatti noi possiamo dire, benissimo, è vero che in Svizzera si mangia più cioccolato rispetto alla Cina, però qual è il problema? Che non sappiamo se i ricercatori mangiano più o meno cioccolato rispetto a una persona normale. Potrebbe anche essere che i ricercatori, che quindi hanno vinto poi i premi Nobel, in realtà essendo più consapevoli anche dei rischi del cioccolato o diciamo dell'elevato potere calorico, ne mangino molto molto di meno e quindi diventa poco utile fare questo tipo di associazione. Il giornale in questione, che ripeto è un giornale molto prestigioso, in realtà ha voluto pubblicare questo lavoro, questo lavoro scientifico, questo studio, in modo molto provocatorio per sottolineare i limiti di questo tipo di approccio. Andiamo avanti, vediamo il secondo tipo di studio osservazionale, che è lo studio caso controllo. Cosa vuol dire? È semplice, vuol dire che noi in un certo momento, diciamo oggi, andiamo ad accedere nei registri medici sanitari degli ospedali, delle regioni e andiamo a vedere chi per esempio ha avuto un tumore e chi non l'ha avuto. A quel punto, sempre dai registri medico sanitari, estraiamo una seconda informazione, quindi in questo caso quanto caffè bevevano le persone. Vi sto citando tutti i studi pubblicati che potete trovare proprio per dare anche un connotato reale alla nostra chiacchierata. E quello che si è visto in questo studio è che chi beveva più caffè aveva, diciamo, aveva tumori, chi invece non aveva tumori beveva in media meno caffè. Attenzione, allora dovremmo dire, siamo tutti quanti a rischio di avere dei tumori perché beviamo il caffè. Occhio, attenzione, questo tipo di studio, appunto lo studio caso controllo, ha un grosso problema, cioè risente del cosiddetto fattore confondente. Quello che si è visto infatti analizzando meglio i dati è che chi beveva più caffè, è vero che, cioè chi aveva tumori, è vero che tendenzialmente beveva più caffè, ma c'era un fattore confondente, cioè fumava. Infatti tutti sappiamo che tipicamente col caffè si fa anche la sigarettina e questo sì che era la causa dei tumori. Infatti nel momento in cui si dice si va a normalizzare, cioè si tiene conto di questo fattore confondente si vede che il caffè di per sé non aumenta il rischio di tumori e infatti oggi sappiamo che un consumo adeguato, quindi consapevole, di caffè non crea problemi per la salute dal punto di vista oncologico. Quindi questo tipo di studi deve essere sempre normalizzato per i fattori confondenti e ovviamente il problema è che è difficile, diciamo anche impossibile, normalizzare per tutti i fattori confondenti. La prima ragione è perché potenzialmente sono tantissimi, la seconda ragione è perché potenzialmente non li conosciamo tutti e quindi non possiamo essere certi di normalizzare per tutti questi fattori confondenti. Quindi anche questo tipo di studi ha un limite, anche se comunque diciamo che sono un po' più solidi rispetto agli studi ecologici. Ma abbiamo un'ultima risorsa a cui attingere e sono gli studi di corte. Cosa sono gli studi di corte? Semplice, si osservano delle persone nel tempo e quindi per esempio qui vi riporto uno studio realmente esistito in cui si è osservato persone che avevano livelli nel sangue più alti di beta carotene e persone con livelli più bassi nel sangue. Si sono osservati per molti anni, decenni, e si è visto che chi aveva livelli più elevati di beta carotene aveva un rischio più basso di tumore. Chi aveva livelli invece più bassi di beta carotene aveva un rischio più elevato di sviluppare un tumore. Ah, allora è arrivato qualcuno e ha detto, ah hai capito, il beta carotene protegge dai tumori. Quindi cosa facciamo? Facciamo un grande studio in cui diamo noi alle persone il beta carotene. Questo studio è stato fatto e quindi tutti ci immagineremmo che dare beta carotene, integrare, supplementare il beta carotene riduca il rischio di tumore. E non succede questo, succede esattamente il contrario, cioè supplementare il beta carotene aumenta il rischio di sviluppare tumori, soprattutto nelle persone che fumano. Perché questo? Perché questi studi, gli studi di corte, non ci danno una garanzia del causa-effetto. È complicato questo da focalizzare, però vi esorto a ricordarlo sempre nel momento in cui entrerete in contatto con delle news o delle notizie di ricerca scientifica. Questo tipo di studi osservazionali non consente di solito di creare delle associazioni tra il causa-effetto. Perché? Perché noi non sappiamo se il beta carotene alto nel sangue vada a prevenire i tumori oppure sia una conseguenza di qualcos'altro. Magari chi ha un beta carotene più elevato è una persona che mangia più verdure e quindi è una persona più attenta alla salute, fa più sport, si espone di meno magari al sole, fuma di meno banalmente. Quindi queste associazioni non possiamo conoscerle tutte e dobbiamo stare molto attenti. Allora, cosa cosa significa questo? Significa che per stilare una relazione di causa-effetto, ok, che è quello che poi ci spinge a dare una certa sostanza, un certo alimento, un certo integratore, un certo farmaco, qualunque cosa, deve esserci una relazione di causa-effetto. Con gli studi clinici randomizzati, quelli che abbiamo visto all'inizio, questo lo possiamo, questa informazione ce l'abbiamo perché noi diamo una certa sostanza e si vede cosa succede. Idealmente dovrebbe prevenire una certa patologia. Per determinare una regola di causa-effetto abbiamo cinque punti da dover soddisfare. Sono punti variabili, possiamo discutere, ce ne sono di più, di meno, però è per dare un orientamento di base. Che sono? Il primo è la consistenza, cioè devono essere presenti diversi studi che dicano tutti la stessa cosa. Perché? Perché abbiamo visto che ci possono essere dei fattori confondenti, quindi più studi abbiamo, più possiamo ridurre la probabilità di avere dei fattori confondenti che ci portano su una falsa strada. La forza, cioè dobbiamo avere diverse misurazioni per dire che un certo alimento, in questo caso il cavolo, faccia bene su una certa patologia e quindi dobbiamo vederlo magari tramite una radiografia. Diminuisce l'incidenza di tumori, un certo tipo di tumore. Dobbiamo vederlo con dati di sopravvivenza magari, con altri dati collaterali, con esami del sangue, insomma avere tanti dati che sostengano questa osservazione. La specificità, quindi dare una certa sostanza o avere una certa sostanza riduce un elemento, una patologia specifica, ok? Dobbiamo essere specifici e dovremmo idealmente dimostrare anche una relazione tra la dose e l'effetto, perché teoricamente più ho una certa sostanza, minore dovrebbe essere l'incidenza della patologia. Ci deve essere una relazione temporale, quindi se io ho un certo parametro, ok? Se io fumo, il tumore dal polmone mi verrà dopo aver fumato e non viceversa, se no c'è un problema proprio di temporalità. E poi una coerenza biologica, cioè devo avere, devo riuscire a dimostrare un meccanismo che mi dica, ah ok, è vero, il fumo può creare problemi a livello polmonare perché? E viene dimostrato il meccanismo. Quindi domandiamoci sempre quando arriva lo studio di turno che dice, ah ma sai che c'è? La carota diminuisce il rischio di avere l'unghia incarnita. Sì, ma perché? C'è una plausibilità biologica? C'è un effetto temporale? Ci sono più studi che dicono questo? Questi studi sono stati ben condotti? È stata dimostrata una relazione tra la dose e l'effetto? Chiediamoci sempre queste domande. E poi c'è un dettaglio assurdo che nessuno dice mai, nessuno, diciamo poche persone si ricordano di sottolinearlo. E cioè gli studi condotti sui cibi, gli alimenti, hanno un grosso problema. Vi siete mai domandati come facciamo noi a sapere chi mangia cosa o quanto mangia di quell'alimento. Fin dei conti diciamo che io voglio fare uno studio oggi. Ok, voglio sapere se il cavolo riduce il rischio di sviluppare tumori. Vado da 100 persone e devo dimostrarlo. Come faccio? A livello proprio pratico. Devo chiederlo a queste persone. Ma devo dire, ok, nell'ultimo anno quanti cavoli ha mangiato? Chi è che se le ricorda queste informazioni? È molto complicato. E questo è quello che si chiama recall bias, cioè le persone, tutti quanti noi, ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto, ma o magari ancora più pericoloso lo sovrastimiamo o lo sottostimiamo, quindi falsando i risultati dello studio. Per cercare di oltrepassare questo limite si creano dei questionari in che le persone possono compilare idealmente giorno per giorno, poi all'atto pratico, siccome sono molto lunghi questi questionari, vengono compilati una volta al mese, una volta ogni sei mesi, ogni tre mesi. Ma anche questo meccanismo ovviamente dipende dalla memoria della persona e quindi espone a potenziali distorsioni di raccolta dati. Ci sono delle idee più moderne per condurre questi studi, non sono ancora molto diffuse e si basano per esempio sull'esame del sangue e delle urine per cercare alcune sostanze presenti nei cibi e quindi possiamo dire ok se c'era tanta di questa sostanza probabilmente la persona ha mangiato tanto di quel cibo. Però è complicato farlo per tutti i cibi a disposizione. Oppure si possono incrociare i dati, quindi magari incrociare diciamo gli scontrini o così anche le ricevute di quando uno compra online gli alimenti, oppure combinare i dati delle app, oppure combinare le foto di quello che uno mangia. Insomma ci sono tanti strumenti che sono in fase di sviluppo, però ad oggi e soprattutto la maggior parte dei dati scientifici che abbiamo si basano su dei questionari. Questo va tenuto a mente perché è un limite enorme di tutta la conoscenza che abbiamo generato finora. Ovviamente non deve scoraggiarci, però dobbiamo essere consapevoli di quelli che sono i limiti, quindi sempre attenzione. Questo è un rapido riassunto di quelle che sono le quattro metodiche principali per analizzare gli studi in ambito nutrizionale. Ricordiamoci che lo studio clinico randomizzato è il metodo migliore, ma è quello purtroppo più difficilmente realizzabile. Le tre invece metodiche osservazionali sono molto più facili da mettere in campo, ma hanno dei limiti più consistenti. Il concetto è che quattro è meglio di uno, cioè idealmente, l'abbiamo già anticipato prima nella relazione causa-effetto, più studi abbiamo, più possiamo essere decisi nelle nostre azioni. Se abbiamo uno studio osservazionale epidemiologico, io non mi sentirei di consigliare alcuna modifica comportamentale o dietetica. Se invece cominciamo a avere 5, 6, 7 studi, magari anche uno studio clinico randomizzato, e beh, allora le indicazioni che io posso dare diventano molto più forti estringenti. E quindi fidatevi solo della moltitudine dei dati. Quando qualcuno vi chiede, quando qualcuno vi dice, ma lo sai che la cipolla riduce il rischio di tumore? Dovete rispondere, ah sì, e quali sono gli studi? Oppure c'è un solo studio? Perché se è uno, non è che mi hai convinto tanto. Però, però, arriviamo a un altro punto di ragionamento, e cioè è difficile dimostrare l'efficacia del singolo alimento, perché mangiamo tante cose diverse nella nostra dieta. E quindi vi faccio un esempio. Ipotizziamo che arriviamo a dimostrare che il cavolo faccia bene. Ok, allora cominciamo a mangiare tanto cavolo. Ma siamo sicuri di alimentarci in modo corretto? Perché infatti poi compensiamo con le patatine fritte. Quindi mangiamo tanto cavolo che fa bene, e poi mangiamo tutti i giorni patatine fritte. E è un problema questo. Non sono sicuro che chi mangia tanto cavolo e patatine fritte abbia una dieta salutare. Perché questo? Perché ragionare sul singolo alimento spesso è controproducente e troppo semplicistico. Dobbiamo ragionare sul pattern alimentare. Che cos'è il pattern alimentare? Qui vi ho messo un grafico, ed è semplice, cioè la nostra dieta è composta non da un singolo alimento, ma da tutto quello che mangiamo. Quindi non possiamo basare la salubrità su un singolo cibo, ma dobbiamo mangiare bene in generale. Questo non vuol dire mangiare solo gli alimenti definiti salutari. Ci può stare mangiare anche delle schifezze, dei cibi spazzatura ogni tanto, però capiamo che la maggior parte di quello che mangiamo deve essere salutare se vogliamo rimanere in salute e in forma. Qui vedete quindi come si realizza a livello più scientifico un pattern alimentare. Si vanno a definire le diverse classi alimentari, quindi legumi, cereali, latte, formaggi grassi, cibo spazzatura, eccetera, eccetera, e si va a definire quanto ogni giorno mangiamo dell'una o dell'altra classe. La salubrità, quindi la correttezza della nostra dieta, sarà definita da questo pattern, da questa conformazione alimentare che verrà a delinearsi. Bene, passiamo adesso dalla teoria ai segreti, quindi diciamolo anche a bassa voce, e torniamo al punto iniziale, il nostro cibo miracoloso. Perché non ce lo dicono? Perché non ci dicono che esiste questo cibo miracoloso che abbiamo definito all'inizio? Perché ci sono degli interessi. Ecco allora qual è questo cibo. Tenetevi pronti? Questo cibo non esiste. Non esiste perché, l'abbiamo detto in questa chiacchierata, non esiste un singolo cibo che è in grado di darci la salute istantanea, non esiste la pillola magica, esiste come mangiamo giorno per giorno, includendo tutti i cibi che consumiamo. Questa semplificazione estrema che è un cibo isolato, ci dia dei benefici pazzeschi a livello alimentare, a livello di salute, non c'è questa semplificazione. E questo ci ricorda un punto importante. Dobbiamo imparare a familiarizzare con la complessità del mondo, perché è importante ed è giusto ovviamente avere pochi concetti e ben chiari in mente, come si suol dire. Questo ci aiuta a essere anche concreti nella vita di tutti i giorni, però non dobbiamo dimenticare che sotto questo apparente livello di semplicità c'è una complessità enorme nel mondo che ci circonda e l'obiettivo che possiamo darci è cercare ogni giorno di scavare all'interno di questa complessità per cercare di tramutarla in qualcosa di più chiaro per noi, di più spendibile, di più concreto, ma senza dare per scontato che tutto sia semplice e immediato. Ricordiamoci che nulla è semplice e immediato e quindi diffidiamo, diffidiamo da chi ci dà una lettura troppo semplicistica della realtà e della vita. Io sono Mattia Garutti, sono un medico oncologo, mi occupo sia di tumori che di prevenzione oncologica. Se avete delle domande mi potete contattare direttamente tramite il mio profilo Instagram, vi aspetto là dove anche comunico alcune pillole di prevenzione e di salute pubblica. Io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.